Le malattie reumatiche infantili sono malattie autoimmuni che colpiscono le articolazioni oppure gli organi interni, sono malattie ancora di origine sconosciuta, possono essere curate ma non guarite, nel senso che si usano delle cure che permettono ai bambini di fare una vita sostanzialmente normale. Siamo divertite molto perché il reparto e i bambini sono bellissimi, riusciamo a fare un sacco di cose, dipingiamo, li facciamo giocare. Penso che il lavoro che facciamo noi sia molto importante per il bambino perché lo aiuta a distrarsi, a non pensare magari alla malattia che ha. Ormai ho iniziato il terzo anno di volontariato, sono venuti a presentarmelo a scuola e io ho deciso che sarebbe stata una buona opportunità. La giornata mondiale del malattie reumati per dire a tutti che esistono ancora malattie curabili ma non guaribili, che la ricerca scientifica ha bisogno di fondi per andare avanti. Ci sono bambini che hanno bisogno di aiuto e noi volontari facciamo il possibile quest'anno di stare vicino a loro e ai loro famigli. Amri è un'associazione di volontari, di genitori con bambini malati di malattie reumatiche, ha 20 anni di attività e si cura all'interno dell'ospedale Gaslin di Genova di fornire servizi utili alle cure, alla ricerca scientifica e all'assistenza primaria alle famiglie.